Gli uomini hanno paura a dire ti amo, insomma questa frase magica che poi sia un ti amo o un non ti amo è la stessa identica cosa, gli uomini pronunciando questa frase hanno paura di intrappolarsi, di sentirsi poi intrappola. E' come se dire la frase ti amo in qualche modo non gli desse poi più la possibilità di tornare indietro, vedono questa frase come un senso di fragilità, di debolezza, insomma il contrario di quello che si aspetterebbe da un vero uomo duro. Al contrario invece la parola ti amo per le donne è l'anticamera se vogliamo di quello che è poi una storia d'amore. La donna apprezza, le donne apprezzano il romanticismo, le paroline dolci perché comunque fa parte anche dell'immaginario erotico della donna. Insomma questi sono i motivi per il quale l'uomo con la parola ti amo si spaventa e spesso e volentieri indietreggia. Un bacio dalla Pink, a presto.